E' un duetto tra la cantante Celine Dion e il tenore Andrea Bocelli E' un brano di grande successo che ha ricevuto la nomination agli Oscar per il film La Spada Magica come migliore canzone L'avanzamento per banda che andremo ad eseguire è del maestro Nini Pedone A voi di nuovo la banda musicale Città di Cusconaci La Spada Magica 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 La Spada Magica